Un campo di alta pressione si estende su tutta l'Europa, in configurazione molto stabile e garantirà quindi tempo sereno per quasi 10 giorni. Domenica 13 agosto, sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme sui rilievi di nord-ovest dove saranno possibili isolate piogge, venti deboli di brezza, mari poco mossi, temperature minime stazionarie massime in lieve aumento. Sulla provincia di Lucca cielo sereno, a Lucca e sulla Piana minima 19, massima 36 gradi, a Castelnuovo e zone montane minima 17, massima 33 gradi, a Viareggio e sul litorale minima 21, massima 32 gradi.